Sì, questo è l'esito finale di un primo ciclo del progetto che ha sede su Marsala, quindi oggi concludiamo con la pulizia di un sito che ha individuato l'ente locale. Il progetto si chiama Per l'alto mare aperto, un verso di Dante, e in realtà nasce in mare, quindi si conclude in terra ma nasce in mare questa idea, perché queste persone che comunque hanno avuto problemi penali, anche non indifferenti, hanno fatto tutto il loro percorso, sono state selezionate per poter riprendere un viaggio un po' esistenziale. Quando siamo in crisi diciamo che spesso ci troviamo in mezzo al mare. Ecco, uscire da un momento di crisi, dentro una condizione tra virgolette marittima, dove in mezzo al mare tu impari che anche in mezzo al mare c'è un orizzonte di senso verso cui guardare, che deve essere una pista e che per raggiungere quell'orizzonte tu devi applicare delle regole e quindi dal mare aperto, stando nelle regole, stando in gruppo, collaborando, si riesce probabilmente a risalire, rispettando le regole e a sentire proprio un senso di libertà che è quello che è venuto poi fuori anche nell'ambito dei vari focus che noi via via facciamo, perché accompagniamo questo percorso con addetti, diciamo c'è un responsabile di progetto, la dottoressa Dragna, ma ci sono anche, c'è la velaterapista, la dottoressa Di Marco e poi c'è tutta un'equip che ovviamente fa un po' un lavoro anche sul senso. Noi diciamo dal punto di vista psicologico accompagniamo questi ragazzi in questa esperienza di avvicinamento al mare e alla navigazione a vela che è lo strumento in particolare che noi utilizziamo e assolutamente già dai primi incontri, dalle prime uscite in mare accompagnate dal gruppo degli operatori e da me che sono uno psicologo, psicoterapeuta con esperienza di navigazione noi facciamo avvicinare i nostri utenti ragazzi all'esperienza del mare, all'esperienza della vela che sono grandissimi attivatori di introspezione, di pensieri che attengono la libertà come intanto la libertà della navigazione a vela che è proprio la caratteristica di questo tipo di navigazione e quindi scoprire cos'è la libertà come dispositivo e strumento per contrastare anche condotte devianti che poi portano alla mancanza e alla libertà, molto spesso alla perdita della libertà e questo è stato importante anche perché dopo le uscite in mare e in navigazione noi ci fermiamo sistematicamente e facciamo delle sedute di psicoterapia di gruppo in cui ognuno si esprime rispetto all'esperienza che ha appena fatto sia relativa alla navigazione ma anche è successo che qualcuno è andato anche oltre e si è espresso e ha voluto raccontare un po' la sua storia personale accogliendo molto l'invito proprio che noi abbiamo fatto a utilizzare questa esperienza come un grande attivatore di crescita personale la sezione di Marsala ha dato la sua disponibilità con grande piacere per poter partecipare a questo progetto dato dall'Uepe di Trapani devo ringraziare sicuramente il nostro socio Pietro Cudia che ha dato il suo tempo e la sua imborcazione per poter attuare questo progetto grazie